La regione toscana ha cominciato fino dal 2009 a supportare le imprese con strumenti, con pacchetti di incentivi. Questa è la formulazione di una nuova modalità di pacchetti di incentivi. È il proseguimento delle attività del passato con ingenti mezzi finanziari da sviluppare e da mettere a disposizione delle imprese nei prossimi 5 anni e attraverso due forme principali che sono quelle delle garanzie a favore delle imprese nei confronti del sistema bancario per operazioni di finanziamento a medio termine sia per investimenti che per liquidità e poi finanziamenti diretti, i cosiddetti fondi rotativi a tasso zero che verranno erogati direttamente dal gestore che poi è questo raggruppamento di imprese formato da Fili Toscana come mandataria, Artigian Credito, Toscano e Artigian Cassa e quindi erogheranno attraverso i fondi rotativi direttamente dei finanziamenti a medio termine alle imprese però qui solo nell'eventualità che le stesse realizzano investimenti. Questo strumento a questo punto è gestibile attraverso un portale, una piattaforma informatica che consente alle imprese con facilità di accedere e presentare le domande, sempre alle imprese di seguire l'andamento della richiesta effettuata.